Il miracolo della presenza mentale Un manuale di meditazione Come trasformare ogni atto della vita quotidiana da lavare i piatti al bere una tazza di tè in un'esperienza gioiosa, totale e illuminante La giornata della presenza mentale La presenza mentale va praticata ogni giorno ogni ora E' facile a dirsi ma difficile a farsi Ecco perché consiglio a chi partecipa ai corsi di meditazione di impegnarsi a riservare un'intera giornata a settimana alla pratica della presenza mentale In teoria ogni giorno dovrebbe essere il vostro giorno e ogni ora la vostra ora Ma in realtà ben pochi di noi sono a questo punto Abbiamo l'impressione che la famiglia e il lavoro, la società ci derubino di tutto il nostro tempo Perciò io insisto che ciascuno si ritagli un giorno a settimana Il sabato, magari Se è sabato, allora il sabato deve essere interamente la vostra giornata Una giornata in cui siete i padroni assoluti Allora il sabato sarà la leva che vi spingerà alla consuetudine della presenza mentale Chiunque lavori in un'associazione per la pace o per l'assistenza sociale Per quanto pressanti siano i suoi impegni ha diritto a questa giornata Perché altrimenti ci smarriamo facilmente in una vita fatta di ansia e di attività in cui la nostra interazione con l'ambiente diventa sempre più inefficace Qualunque sia il giorno prescelto sarà la giornata della presenza mentale Per cominciare Escocitate un modo per ricordarvi appena svegli che oggi è il giorno della presenza mentale Si può appendere qualcosa al soffitto o alla parete un cartello con su scritto Presenza mentale o un ramo di pino o qualunque cosa che vi suggerisca appena aprite gli occhi e lo vedete che oggi è la giornata della presenza mentale Che oggi è la vostra giornata Ricordandolo forse sentirete nascere un sorriso che conferma la pienezza della vostra attenzione un sorriso un sorriso che nutre quell'attenzione perfetta Mentre ancora siete a letto cominciate lentamente a seguire il respiro Respiri lenti profondi e consapevoli Poi lentamente alzatevi dal letto invece di schizzar via come al solito Nutrendo la presenza mentale Una volta in piedi lavatevi i denti lavatevi la faccia e sbrigate tutte le solite attività matutine in modo calmo e rilassato consapevoli di ogni movimento Seguite il respiro Restate sul respiro e non divagate col pensiero Ogni movimento va fatto con calma Ritmate i passi su una respirazione tranquilla e profonda Conservate un mezzo sorriso Dedicate almeno mezz'ora a fare un bagno Lavatevi lentamente e con attenzione di modo che alla fine vi resti una sensazione di benessere e di vigore Dopodiché potrete passare alle faccende domestiche Lavare i piatti spolverare e ripulire i tavoli Strofinare il pavimento della cucina Sistemare i libri sugli scaffali Di qualunque compito si tratti fatelo lentamente e con naturalezza consapevolmente Non fatelo tanto per togliervi il pensiero Decidete di compiere ogni attività in modo rilassato In modo rilassato con tutta la vostra attenzione Assaporatela e calatevici dentro Altrimenti la giornata della presenza mentale non avrà assolutamente alcun valore La sensazione che un certo compito sia una secatura La sensazione che si trattura sparirà presto se lo si esegue in uno stato di presenza mentale Prendete esempio dai maestri zen Qualunque cosa facciano la fanno lentamente e con uno spirito imparziale senza riluttanza Per chi è ai primi passi nella pratica è consigliabile conservare il silenzio per tutta la giornata Questo non significa che nella giornata della presenza mentale non bisogna dire una parola Potete parlare e perfino concedervi il lusso di cantare Ma se parlate o cantate fatelo restando perfettamente consapevoli di ciò che dite o cantate e tenetevi entro certi limiti Naturalmente si può cantare e al tempo stesso praticare la presenza mentale Basta essere coscienti del fatto di cantare e consapevoli di ciò che si canta Sappiate però che se la pratica ha ancora radici deboli Cantando o parlando è molto più facile deviare dalla presenza mentale All'ora di pranzo preparatevi da mangiare Cucinate il pasto e lavate i piatti con consapevolezza Al mattino dopo aver pulito e rassettato la casa e nel pomeriggio dopo aver lavorato in giardino contemplato le nuvole o raccolto i fiori preparatevi un tè da gustare con consapevolezza Concedetevi tempo in abbondanza Non bevetelo come si ingolla una tazzina di caffè durante una pausa dal lavoro Bevete il vostro tè lentamente e con reverenza come se fosse l'asse su cui ruota l'universo intero Lentamente con calma senza anticipare il futuro Vivete il momento presente Solo il presente è vita Non attaccatevi al futuro Non preoccupatevi degli impegni che vi aspettano Non pensate ad alzarvi o a corrervi a fare qualcosa Non pensate a partire Sì un germoglio in silenziosa attesa sulla siepe Sì un sorriso frammento del miracolo della vita Rimani qui Non c'è bisogno di partire Questa terra è bella come la terra della nostra infanzia Non farle male Ti prego E continua a cantare Da Butterfly Over the Field of Golden Mustard Flowers La sera potete dedicarla alla lettura dei testi buddhisti a ricopiarne dei brani a scrivere lettere agli amici o a qualunque altra attività vi piaccia che esuli dai consueti impegni della settimana Ma di qualunque cosa si tratti fatela con consapevolezza A cena tenetevi leggeri Quando più tardi verso le 10 o le 11 vi sederete a meditare a stomaco vuoto vi riuscirà più facile Poi potrete uscire a fare una lenta passeggiata al fresco della sera seguendo il respiro con attenzione e misurando con i passi la lunghezza dei respiri Infine ritornate nella vostra stanza e dormite conservando la presenza mentale Dobbiamo fare in modo che ogni praticante abbia la sua giornata della presenza mentale È una giornata di importanza vitale I suoi effetti sul resto della settimana sono incalcolabili Dieci anni fa grazie alla giornata della presenza mentale Chu Van e gli altri fratelli e sorelle dell'ordine Tiep Yen riuscirono a superare molti momenti difficili Dopo solo tre mesi di questa pratica settimanale assisterete certamente a un cambiamento significativo nella vostra vita La giornata della presenza mentale comincerà a infiltrarsi negli altri giorni della settimana e alla fine vi metterà in grado di vivere consapevolmente per tutti e sette Sono certo che mi darete ragione sull'importanza della giornata della presenza mentale Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita Metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.